Il situs inversus è un difetto genetico raro di origine malformativo e causato da un'anomalia di sviluppo dell'embrione. È caratterizzato dalla trasposizione speculare completa dei visceri toracici e addominali sull'asse sinistro-destro del corpo, con concordanza tra la posizione cardiaca e lo stomaco fetale. Una condizione sporadica. La forma completa si verifica in 1 ogni 6.000-8.000 nati. Rara, invece, è la forma incompleta, che si verifica in circa 1 ogni 200.000 nati. Una volta stabilito il situs, mediante la situazione fetale e la posizione del cervelletto, dobbiamo ricercare i segni ecografici caratteristici. Andiamo sul torace e vediamo che l'apice del cuore è frequentemente rivolto a destra. In rare forme è rivolto a sinistra e ancora meno frequente è la mesocardia. Per quanto riguarda gli organi addominali, lo stomaco e la milza sono posti a destra, il fegato e la colicisti sono posti a sinistra. La orta è posta anteriormente e a destra del racchide, mentre la vena cava inferiore è posta anteriormente e a sinistra della orta. Il situs inversus si associa spesso ad anomalie congenite cardiache ed extracardiache. In particolare si associa alla discinesia ciliare primitiva, sindrome di Cartagener, la polisplenia, la tresia biliare, la marrotazione intestinale, il volvolo, la tresia esofagea, displesia renale, anomalie vascolari e tumori maligni. Per quanto riguarda le anomalie cardiache e congenite, sono presenti nello 0,35% dei casi. Tra le più frequenti riscontriamo il difetto interatrale, il difetto interventricolare, la tresia polmonare, il canale atroventricolare, la tetralogia di Fallot, il ventricolo destro a doppia uscita, la trasposizione dei grossi vasi e le anomalie del ritorno venoso sistemico e polmonare. Oggi vi presentiamo il caso di una gestante nel corso del secondo trimestre che giunge alla nostra osservazione. È presente situs inversus totale. Prima di tutto, dobbiamo stabilire il situs mediante la situazione fetale e la posizione del cervelletto. In questo feto, la sinistra è posta in alto, mentre la destra è in basso. Attraverso delle scansioni trasverse dell'addome e del torace è possibile riconoscere la orta a destra del rachide e la vena cava inferiore, anteriormente, e a sinistra rispetto alla orta. L'apice cardiaco è rivolto a destra, lo stomaco a destra, quindi vediamo appunto la concordanza tra lo stomaco e il cuore. La colecista e il fegato sono posti a sinistra, come osserviamo nelle immagini che scurrono. E' importante eseguire uno studio attento e accurato del feto per individuare eventuali anomalie associate cardiache ed extracardiache. Partiamo dunque dallo studio della testa fetale e vediamo come tutte le strutture sono presenti. Regolari sono le strutture della fossa cranica posteriore, il cervelletto e la cisterna magna. Regolare è la morfologia del cavo del setto pellucido, la scissura pareto cipitale e la morfologia e la dimensione degli atri. Passiamo ora allo studio del cuore, che deve essere eseguito in maniera molto attenta e precisa. In questo caso particolare, vediamo che il ventricolo, morfologicamente sinistro, è posto a destra. Osserviamo regolare septum primum e septum secundum. Regolare è la sede di sbocco delle vene polmonari, regolare è il setto interventricolare ed il ventricolo morfologicamente destro è posto a sinistra. Non sono state riscontrate quindi anomalie cardiache o di altri organi ecograficamente visibili. In presenza di anomalie cardiache, infatti, il parto deve avvenire in una struttura adeguata al trattamento cardiologico neonatale. Regolari sono i ritorni venosi polmonari e sistemici e l'arco aortico. In questo feto è stata riscontrata arteria umbilicale singola, ma non si sono osservate altre anomalie ecograficamente visibili ad essa associata. La paziente è stata risedutta che alcune anomalie associate all'arteria umbilicale singola, quali ano imperforato e atresia esofagea, non sono ecograficamente visibili. La prognosi è buona nelle forme isolate eppure essendo ottimisti si ritiene necessaria una consulenza genetica affinché possa proseguire l'iter diagnostico. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie mille. 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 Grazie.